Mai tema più attuale di quello che stiamo trattando oggi, proprio in questa fase storica dove si parla di emergenza idrica in tutto il paese, noi siamo in un cantiere dove stiamo posando le tubature per la realizzazione di un distretto irriguo. Questo a testimonianza del lavoro che ormai da tempo sta portando avanti il Consorzio 2 Alto Valdarno e della grande attenzione che ha sul tema della distribuzione della risorsa idrica. La Ruspa si è già messa in movimento e gli operai sono al lavoro. A Castiglion Fiorentino è infatti partito in questa estate anomala, caratterizzata da temperature bollenti e precipitazioni scherzissime, il cantiere per la realizzazione del distretto irriguo numero 8. Siamo nella zona cardeta del comune di Castiglion Fiorentino dove il Consorzio sta realizzando una rete di distribuzione irrigua che si sviluppa su un'area irrigabile di circa 200 ettari. La rete è costituita da una condotta principale e da due condotte di ramatrici con diametro delle condotte che sono in PVC che varia dai 350 ai 200 mm. Lungo la rete naturalmente ci sono delle camere di manovra dove saranno alloggiate tutte le apparecchiature idrauliche per effettuare operazioni di gestione della rete e anche per monitorare i parametri idraulici principali. La rete poi sarà naturalmente dotata anche di un sistema di telecontrollo che consentirà una gestione in tempo reale. Lungo la rete verranno posizionati 17 punti di consegna dove le aziende potranno attingere quindi la risorsa di Montedoglio perché la rete come gli altri distretti del Consorzio sarà alimentata dall'invaso di Montedoglio. Avrà una superficie irrigabile di 200 ettari e 17 punti di consegna. Si dice che prevenire è meglio che curare in genere. Adesso in questo momento qui dove tocchiamo con mano il problema idrico, il problema della siccità, credo che la prevenzione sia ormai qualcosa di tardivo. Quindi bene ha fatto il Consorzio di Bonifica ad intercettare queste risorse che danno una prima necessaria risposta al settore agricolo di Castiglione Fiorentino, a una parte del settore agricolo di Castiglione Fiorentino.